E tu di dove sei? Io sono pugliese, tu invece? No, Veneta. Veneta. Hai scusato lì? Sì, sì, università, vari, sì. Sei laureato? Sì, in scienza della comunicazione, ecco. Tu invece? Io ho fatto una laurea in sociologia e una in economia e stavo valutando la terza. Ma tu hai fatto anche un master? Sì, uno. Tu invece? No, io tre. Ma conosci qualche lingua? Sì, diciamo l'italiano di vista, però, ecco. Noi siamo amici, ecco. Tu invece? No, io ho studiato tedesco e cinese. Sì, certo, ho cinese oggi. Oltre all'inglese? Eh, inglese, sto scherzando. No, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Tessuro, stiamo mangiando. No, io sono più fissati, capite? La sera vuole la pasta. Allora, io sono tutti. Allora, io sono fatti le orecchiette. Uno classico. Uno classico. Uno piosce. Ma non mi piace quel caccio ricotto gratuito. Non c'è Dio. Ah, non ci piosce. Non ci c'entra. Non ci c'entra. Non ci c'entra. A un ordine, un centro di nienzi, la ricotta scuanta, quello che ci vedrà, parlo di un centro di nienzi. Dove vai, scusa? No, io non lo parlo, pugliese. Non mi prenderanno mai. C'entra, figlia mia, esagerata. C'entra, figlia mia, esagerata. C'entra, figlia mia, esagerata. C'entra, figlia mia, esagerata.